Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video rivelato, rivelato, nuovo archetipo da Wild Survivors che utilizza l'hamburger affamato. Solo per questo, solo per questo, servono minimo 2000 like, no vabbè, però mi invito a scrivere lo suonale prima di sempre, vi ringrazio tantissimo, però l'hamburger affamato merita. Andiamo a vedere le carte, quindi sono cuochi un po' demonietti, Borilbas de Nouvelle, chiedo scusa per la pronuncia sia in inglese che in francese. Possiamo invocare ritualmente questa carta con una carta, qualsiasi carta, un vero type card. Ok, se questa carta viene specialata, scaviamo le prime 5 carte del deck, se lo facciamo, aggiungiamo una carta scavata Nouvelle alla mano, poi mi schermo il resto del mazzo, con una carta ad effetto che targhetta questa carta quando viene targhettata per un attacco, effetto rapido, possiamo attributare questa carta a un altro mostro in posizione di attacco su ogni terreno, se lo facciamo specialiamo un mostro a livello 2 o 3 Nouvelle Rituali nella mano deck. Quindi si possono evocare anche per effetto, però se vengono evocati ad effetto tributati, non potete riprenderli perché non li avete evocati tramite il rituale. Però insomma, già che te li puoi evocare specialmente così, oh mio dio no, confitra de Nouvelle, non so se il nome lo devono leggere in francese oppure no, Nouvelle sicuramente si, vabbè, possiamo evocarlo con una qualsiasi carta Recype, se viene speciale targettiamo la spell trap e la spacchiamo, vabbè, ok. Quando una carta ad effetto viene attivata, che targhetta questa carta quando viene targhettata per un attacco, la tributiamo insieme ad un altro mostro in posizione di attacco su entrambi i terreni, se lo facciamo speciale un mostro a livello 3 o 4 Nouvelle della mano deck, fondamentalmente fa da lei, tributiamo le carte dell'avversario, questa meccanica mi piace tantissimo, però il problema è che lo devono targhettare, e cioè, mi adesso dica che ho una carta che non targhetta, Puoletti de Nouvelle, qua viene speciale dove si chiama uno, sempre evocabile con la carta Recype, quando una carta ad effetto viene attivata la targhetta uno o più mostri sul terreno, quando un mostro viene targhettato per un attacco, possiamo tributare un Nouvelle che controlliamo, un mostro in una posizione di attacco entrambi i terreni, e se lo facciamo speciale un mostro nel 4 o 5, ok, se questa carta viene specialata abbiamo, fuoglize de Nouvelle, se viene specialata, targhettiamo fino a tre carte in qualsiasi cimitero, li mischiamo nel mazzo, questa carta, devo dire un attimo una cosa, ok, quando una carta ha un effetto attivato il targhetto uno o più mostri, è un mostro indraghettato, tributiamo, un mostro Nouvelle che controlliamo, un mostro e poi si attacco entrambi i terreni, se lo facciamo speciale, un mostro de Nouvelle, un mostro de Nouvelle, questo è il 4, fanno tributare non sempre loro ma anche altri Nouvelle, e ok, poi, Balemunie de Nouvelle, se viene evocata specialmente aggiungiamo una carta Nouvelle o Recype dal deck o alla mano, possiamo targhettare un mostro in posizione di attacco, lo tributiamo, se lo facciamo speciale un mostro de Nouvelle rituale dalla mano o deck, questo è un effetto rapido, se questa carta è stata evocata specialmente dall'effetto di un mostro Nouvelle, molto forte, perché tributiamo un mostro in posizione di attacco, qualsiasi, un mostro in posizione di attacco dell'avversario, scusate, non l'ho detto, targhettiamo un mostro dell'avversario, quindi lui è praticamente molto 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 buono, il problema, è che non tributa di costo, perché il costo è targhettare un mostro in posizione di attacco, quindi non so quanto possa togliere i mostri, però comunque, perché magari qualcuno è intarghettabile, quindi tu non lo puoi andare a targhettare con l'effetto, però comunque è molto interessante, perché riesce a togliere tutto quello che può togliere di non targettabile, quindi, cioè di targhettabile, scusate, i targhetti e i tributi, e cali, la boss monster of the mazio, se questa carta viene specialata, possiamo negare gli effetti tutte di, tante carte quante possibile sul terreno, fino alla fine di questo turno, ok, che l'avversario attualmente controlla, se questa carta è stata specialata dall'effetto di novelle, gli tributiamo tutti i mostri che controlla, porco Giuda, fa piazza pulita, ok, quindi diciamo che è abbastanza importante l'effetto, viene evocata specialmente, diciamo, gli effetti di quante carte possibili e scoperte dell'avversario, poi se è stata evocata specialmente dall'effetto di un mostro novelle, gli tributiamo tutte le carte, effetto rapido, possiamo targhettare un mostro in posizione di attacco dell'avversario, lo tributiamo, se lo facciamo specialiamo un hamburger affamato dalla mano deck, ok, è una meccanica carina, soltanto che devi sempre targhettare, devi fare sempre targhettare, e non tributa di costo a quanto pare, quindi, prove, col fatto di tributa, le va a un sacco di roba, carta magia terreno, dove è l'ubergia table, quando questa carta si risolva, aggiungiamo una carta del saip dal deck o cimitero alla mano, una volta per turno possiamo piazzare un mostro rituale dalla mano, in fondo del mazzo per pescare una carta, durante l'emphase possiamo targhettare le due carte del cimitero, incluso una carta del saip, e la piazziamo in fondo del mazzo in qualsiasi rotina, e poi peschiamo una carta, non male, perché comunque ti può pescare due carte, in più, ti fa prendere le carte del saip dal deck o cimitero alla mano, quindi molto molto buona, poi, reset de poeson, fist re saip, ritroviamo un mostro novel, dalla mano attributiamo mostri dalla mano o sul terreno, il cui totale dei livelli sia uguale, o in accesso a livello del mostro rituale, poi, se abbiamo evocato ritualmente, la bueril bus, con questo effetto, possiamo aggiungere una carta del saip rituale, ma già dal deck o cimitero, alla mano, eccetto lei, poi, reset de van, mit resaip, ritroviamo un novel, sempre la stessa formula di prima, poi, se abbiamo ritrovato, confit tra di novel, con questo effetto, possiamo cambiare tutta la posizione dei mostri dell'avversario, da difesa, in scopetta e in attacco, in modo che possiamo poi targettarli, e tributarli, e fare roba, carta trappola, continua, reset de personal, cook recipe, targettiamo un mostro rituale, controlliamo, specialiamo un novel token, 50-50, e se lo facciamo, il suo livello diventa quel livello del mostro tragettato, possiamo andare a questa carta scoperta, nella zona maggiata trappola al cimitero, per ritrovare un novel, rituale della mano, tributando i mostri sul terreno, o in mano, in cui il totale sia ok, il livello dei mostri rituali, praticamente, di ritualarti la roba da farla in scala, per arrivare a quella grossa, che tributa tutti praticamente, poi, reset de speciality, set speciality, quando una maggiata trappola, un effetto di mostro viene attivata, noi controlliamo un mostro rituale, novelle, neghiamo l'attivazione, se controlliamo un mostro, specialato all'effetto di un mostro novelle, possiamo spaccare la carta, se specialiamo un hamburger affamato, possiamo andare questa carta, per tributare tutti i mostri dell'avversario, ok, questa è la carta più forte del mazzo, perché se, che ha l'hamburger affamato, rimuovi questa, ban, gli tributi tutti, questa è la carta più forte del mazzo, e siamo a lui, guarda che bello, guardate che bello, quanto è bello un hamburger affamato, la ricetta dell'hamburger, ma quanto sono belli, quanto, quanto, quanto sono belli, allora, in realtà il mazzo non mi piace per niente, mi piace solo il fatto che si possa utilizzare l'hamburger affamato, avrei, non lo so più che altro appunto, il fatto che, non ti ributa neanche di costo, ti devi fare la scaletta, se parti primo, devi settarti le trappole, per farti i rituali al turno dell'avversario, e andare in scaletta, nel tentativo di andare a interrompere, perché non c'ha negate, però potrebbe essere interessante, perché tu vai a interruzione, piano piano ti fai le carte grosse, cali l'hamburger affamato, per rimuovere la counter trap d'archetipo, tributargli tutti, oppure cali, nella boss monster, che, anche lei, o tributa i mostri in attacco, per evocare l'hamburger affamato, oppure tributa tutto quanto, negando effetti, il problema non è un effetto, non è un effetto rapido, quindi, è targhettabile, e quindi, mazzo carino, a me non mi piace, fondamentalmente come idea, non è neanche malaccio, il problema, non penso vadi, buono anche il fatto, che si specializzano, senza per forza, andare a parare sul rituale, però uno di rituale, lo devi per forza calare, se no a catena, non ti vanno, quindi, beh, al momento, no, non mi fa impazzire, aspetto la vostra, detto questo ragazzi, fatemi sapere voi, cosa ne pensate, noi come sempre, ci vediamo nel prossimo video, e un saluto a tutti, di, Grazie.